ciao mi sono venuti finalmente in questo mio nuovissimo video benvenuti finalmente in questo nuovissimo video speciale diciamo che è praticamente la collezione di tutte le mie cose magiche che appartengono alla mia camera ok e detto questo niente non direi di non perdere subito in chiacchiere vi lascio subito al video ma vi dico solo di se non siete interessati alle mie collezioni di carte comunque tutte queste cose vi dico che alla fine c'è un piccolo minuto un minuto e mezzo vi faccio un gioco con un elastico veramente bello a parere mio quindi se volete andarlo a vedere vedete non vi dico solo di seguirmi su Instagram Mattia tratto basso ciocere e quindi vi lascio sempre il link qua sotto in descrizione e detto questo vi lascio con questa magia del secolo che voi vedete un 8 di quadri in realtà basta scuotere l'8 di quadri che l'8 di quadri diventa un 5 grosso di quadri e detto questo niente ragazzi vi diamo subito al tavolo e direi subito di partire ciao raga e direi subito di non perdereci in chiacchiere e di iniziare subito con questa scrivania enorme che uso per allenarmi con questo fantastico tappetino che ho preso a Rimini e l'ho pagato veramente poco per la qualità diciamo qualità qualità prezzo veramente poco perché l'ho pagato mi sembra di 11 euro e di una qualità fantastica solo che qua vedete mi si è piegato per infatti l'ho lasciato in valigia così proprio sbattutissimo e poi non è più tornato normale come vedete che dovrebbe tornare poi direi subito di partire dalla mensolina magica tra virgolette e partiamo con questo car college volume 1 che se vediamo c'è la firma di Jack Nobile e Lorenzo Forgerini fatte allo spettacolo di Jack a Bologna organizzando la radio immaginaria e questo qua invece era il il braccialetto che abbiamo dato quelli del Bullying 70 Sarimini sempre per lo spettacolo di Jack stavolta quello lì che era però con Sbard e Hyde poi abbiamo qua una pietra una pietra agata che serve per scacciare i pensieri bruti diciamo alla notte poi qua abbiamo il mio portafortuna un Jack di fiori e una donna di quadri poi abbiamo una serie di pennarelli che mi servivano quando facevo street magic quando faccio street magic per far filmare le carte eccetera eccetera poi qua abbiamo una colla che mi serviva quando facevo i gimmick che poi vi farò vedere tutti i gimmick che ho ne ho pochi però gli altri li ho persi tutti poi abbiamo un metato che non sembra truccato ma è truccato poi abbiamo una serie di elastici che mi serve per fare maggioccoli elastici tipo legare 50 miliardi di elastici al mazzo e poi la carta scelta esce fuori e poi abbiamo un po' di walkie liberty un po' di mezzi dollari poi abbiamo la carta filmata da Jack Nobile che mi ha regalato lui quando sono salita sul palco a Rimini poi abbiamo il modiano raga che tra l'altro lo tengo solo per fare da sponda sti mazzi perché sennò cadrebbero ok come vedete qua qualsiasi cosa uno scomparto poi abbiamo un elastico abbiamo degli degli spilli che mi servono per quando facevo i gimmick poi abbiamo una donna di cuore gimmick poi abbiamo un taglio rosso un taglio blu cioè doppio dorso faccia blu e faccia rossa e poi abbiamo le cose per le predizioni qua predizioni e qua le cose per le predizioni ok poi qua abbiamo le lime per le unghie perché per chi non lo sapesse io mi diamo le unghie perché che ogni mago dovrebbe fare perché quando porta le unghie sul sul tappetino siete sul unghie che a me non piace per niente e quindi le limo per farsi che appunto non succeda poi abbiamo un effetto di paline che si moltipliano che mi ha regalato tutto magia Firenze che quando ho fatto l'ordine e dei matti mi ha regalato anche questo gentilissimi però che non l'ho mai provato poi abbiamo delle paline di spugna con un'ottima qualità e passiamo alle cose più importanti ovvero i mazzi che diciamo che tutti aspettavamo abbiamo due bicycle seconds poi abbiamo due bicycle blu un bicycle rosso che però questo non è un bicycle rosso comune è un bicycle rosso il mio primo mazzo come potete vedere che saranno se no 20 carte e sono tutte e dico tutte strappiegate poi abbiamo altri mazzi e chiaramente tutti questi qua tutti standard abbiamo un V standard e abbiamo un altro bicycle riderback poi abbiamo un bicycle cyclist schifosissimo poi abbiamo un bicycle element cirrus questo carino molto carino ha un dorso che è qualcosa di mai visto potete vedere un'opera d'arte bellissimo poi vediamo un bicycle edizione l'inizietta francese anche questo qua di ottima qualità l'ho usato quasi niente e anche questo qua mi piace tra virgolette mi piace poi abbiamo questo qua che l'odio che puoi vedere come romperlo no lo tengo solo perché un mazzo bicycle ma fa schifo non compratelo mai poi qua abbiamo un bicycle di anim playing cards sempre che mi arriva tutto magia dall'ordine che avevo fatto non riesco a farlo con il mano sinistra ok di ottima qualità se volete che vi faccio un video una recensione di quel mazzo ve lo faccio volentieri poi qua abbiamo un phoenix che è nuovo e poi abbiamo un bicycle 1800 serie che però non è un bicycle 1800 serie per qua vi può vedere qua sono no qua non lo può vedere però sono segnate dal retro e puoi fare una valanga di giochi bellissimi con le carte segnate per esempio che lo sfere sceglie o la carte allo spettatore la ritrovi grazie alla segnalatura poi abbiamo un taglio circleback un altro taglio circleback poi abbiamo un masto che mi piace veramente molto uno dei miei preferiti fra la mia collezione lo sharpers bianfranco prevelino che mi piace moltissimo in qualità bellissimo in qualità phoenix ottimo poi abbiamo un monax che è un masto elegantissimo direi di non perdere il cinque che è sul monax perché quasi tutti conoscono poi abbiamo il mento mori by chris ramsey bellissimo mi mancano le carpe nocte che cerco di avere tutti i costi poi abbiamo il noc il noc v4 che mi piace sono veramente molto qualità atomica e durano veramente tanto e poi abbiamo sigillato il white flower cioè è aperto però non tengo detto la cosa di vincenzo di fatta che anche questo è bellissimo per far sì che il video non duri poco ci mettiamo al tavolo e faccio un breve gioco allora questo è un gioco che si fa con un mazzo e un elastico si fa scelta la carta lo spettatore in questo caso questa carta veramente casuale la si ricorda e la si lascia più o meno in mezzo al mazzo però l'importante è che ve l'ha ricordato ok posso anche andare ad eseguire vari tagli così e mischiare in questo caso in modo di sperdere talmente la carta perfetto vado a fare una cosa di benvenire adesso vado a legare il mazzo all'elastico così perfetto in modo che tutto il mazzo è legato all'elastico poi vado a eseguire un taglio e uno su di nuca devo sempre fare a dire che se vuoi vedere una carta dal mazzo si libera che è o dovrebbe essere papà brava niente spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un bel like ci vediamo la prossima settimana con un nuovissimo video che tra l'altro sarà una una magia che farò io farò una magia a un mio amico lui farò una a me e detto questo niente spero che il video vi sia piaciuto iscrivetevi al canale se è così e niente vi consiglio di seguirmi anche su instagram perché lì vi aggiorno tutte le mie faccelle private ma dietro al tuo basso ciorceri vi lascio anche il link in descrizione e unitevi al canale telegram e vi lascio sempre il link in descrizione detto questo niente vi ci vediamo al prossimo video con il sito di quadri trovate ciao ragazzi